Conferenza stampa a Cantieri del Bene Comune, come sapete faremo un po' un briefing sulle varie attività del network. Per non perdere tempo, vi sarete anche in tanti a dover parlare, do subito la parola a Edoardo Patriarca, presidente del CNV. Buongiorno a tutti, a me aspetta soltanto un brevissimo saluto e una brevissima introduzione. Solo l'anno scorso abbiamo costruito questo network dei Cantieri del Bene Comune, l'anno scorso abbiamo fatto un po' di calcoli, un calcoli un po' così, però con un pizzico anche di rigore, abbiamo coinvolto quasi 40.000 italiani, più di 800 le organizzazioni di terzo settore che hanno partecipato e i Cantieri del Bene Comune vogliono, sto pensando al dibattito alla Camera dove stiamo parlando di norme antiterrorismo, qui cambiamo registro, proprio davvero un altro registro, e i Cantieri del Bene Comune, questo network che poi si presenterà dopo il mio breve intervento, ha questa ambizione di proporre, a me piace sempre dire, una narrazione del Paese, una narrazione diversa del Paese, cioè quindi un cantieri, eventi, luoghi nei quali i cittadini e anche le organizzazioni di terzo settore raccontano l'altra Italia, l'Italia che spesso non viene raccontata. È un network leggero, è giusto che sia così, ma i soggetti che ne fanno parte vogliono in qualche modo condividere contenuti, condividere risorse, condividere anche speranze e anche condividere questa passione per i propri territori, perché questi cantieri, questi eventi sono collocati in territori e quindi sono, come dire, in una sorta di piccola esperienza e di speranza in quei luoghi. Quindi un po', se volete, è un cantiere, un network che vuole cercare di raccontare e narrare un altro Paese, che non è il Paese del Bengodi, ci mancherebbe altro. È il Paese dei cittadini, mi piace sempre dire che in qualche modo di fronte alla difficoltà del tempo che stiamo vivendo, di fronte anche alla crisi, anche di valori talvolta, in qualche modo si sono rimboccate le maniche, hanno deciso di assumersi una responsabilità, piccola o grande che sia, ma comunque si sono mobilitati. Io la contrapongo sempre, come ci ricordava Aldo Bonomi, alle comunità arrabbiate, che di fronte alla crisi, legittimamente talvolta sono arrabbiate, ma che forse però non aiutano il Paese a uscire dalla crisi. Ecco, noi siamo un po' i cantieri delle comunità operose. Il network è composto da sette organizzazioni, ne fanno parte il Centro Nazionale per il Volontariato, il Centro Servizio per il Volontariato di Napoli, l'Istituto Italiano della Donazione, il Consorzio Solco, la Rete Nazionale per la Prossimità, e poi due nuovi aderenti, il Non Profit Leadership Forum e il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona. Il tema, poi vado più veloce, il tema conduttore, il tema generatore, chiamiamolo così, di questi nostri eventi che si svilupperanno durante l'anno, è il tema un po' della comunità. Se l'anno scorso abbiamo deciso insieme di trattare, in qualche modo indagare, ecco, il tema del lavoro, oggi c'è passo che per quest'anno un tema che va in qualche modo approfondito, animato, sostenuto, questo tema della comunità, di fronte a una situazione talvolta di comunità locali sfilacciate, un po' sfibrate. E allora rimettere al centro la comunità è dire ancora una volta che il Paese riparte da lì, dalle comunità territoriali. Ecco, la politica può essere utile, ma poi la politica la si vive, la si concretizza nei territori. Ecco, questi eventi vogliono essere in qualche modo un focus, un punto, un faro in quella regione per far sì che questo tema della comunità, dello stare insieme, del condividere, dello sperare insieme e anche del sostenersi si diventi un tema in qualche modo condiviso laddove siamo collocati. Mi preme soltanto, e poi io ho concluso il mio mandato che Anna Chiara mi ha affidato, di presentare il primo evento di questa filiera di network di eventi 2015, di dire soltanto alcune parole sul primo evento in programma del network, che è appunto il Festival del Volontariato di Lucca, si terrà il 16, dal 16 al 19 di aprile. è un evento, è il quinto evento, se ben ricordo, il programma è intenso, seguirà come filo conduttore, come tema conduttore, anche qui tema generatore, chiamiamolo così, avrà il tema dell'Europa, il titolo è Visione Europea, nutrire le radici e superare i confini. Questo è il payoff del Festival, quindi un po' l'Europa, però le nostre radici per aiutare a stare in Europa e andare oltre l'Europa. Abbiamo, immaginati in quattro giorni, una notevole proposta di iniziative che vanno dalla protezione civile alla comunicazione sociale, il tema delle carcere, delle pere detentive alternative, la tutela dei beni culturali, abbiamo i vari programmi nazionali e europei, abbiamo il dopo di noi, la disabilità, tutto il tema della pace, tutti eventi, tutti animati insieme in collaborazione con gli altri soggetti del terzo settore, con le reti soprattutto che in qualche modo hanno aderito al nostro progetto. Cito soltanto, chissà, i personaggi più noti che saranno presenti al Festival e hanno già garantito la loro presenza la Maria Elena Boschi, i ministri, la Maria Elena Boschi, la Stefania Giannini, Giuliano Poletti, che tra l'altro anche l'anno scorso, la Boschi no, ma Giannini e Poletti sì, ci hanno già frequentato, sono stati presenti con noi. Abbiamo la conferma di Luigi Bobba e di Laria Borletti. Stiamo ottenendo la conferma, ma insomma siamo davvero in chiusura, contiamo di averli, di averli, sia di Andrea Orlando, per quanto riguarda il tema carceri, pene, detentive alternative, e sia il ministro Gentiloni per quanto riguarda questo convegno sulla cooperazione internazionale, sulla pace, cooperazione internazionale, il contributo che danno le ONG alle politiche estere del nostro Paese. Attendiamo un sì ancora da Matteo Renzi e poi da altri amici che via via si aggiungeranno, speriamo, in questi giorni. Abbiamo con noi, avremo ancora Franco Gabrielli del Dipartimento Protezione Civile, Stefano Boeri, Riccardo Bonacina, Enzo Manes, Giovanni Maria Flick e via di seguito. Ecco, il programma vi verrà dato definitivamente in tempi brevi e sarà messo a disposizione di tutti. Ovviamente auspichiamo che a questi quattro giorni siano presenti tutti, anche i giornalisti e non solo, e tutti gli amici. Grazie. Grazie Edo. Giulio Sensi, della comunicazione, ci spiegherà ancora meglio un po' il senso di questo festival. Sì, solo due parole, visto che le linee generali le ha già tracciato Edo. Il festival dell'apertura, il festival di temi che si masticano anche non direttamente, ma è stata una scelta, una scelta voluta. Abbiamo voluto alzare il livello qualitativo dei dibattiti. Là in fondo trovate il programma generale, per chi è online invece lo troverà a partire da domattina sul sito festivalvolontariato.it. I temi sono quelli che introduceva Edo Patriarca prima. li illustro, giusto per dare una panoramica della grande varietà di questioni su cui, non solo al festival del volontariato, ma durante tutto l'anno noi lavoriamo. Il taglio è quello dei giovani, i giovani in Europa. Quindi la mobilità, non solo mobilità, quella fisica, ma anche delle idee. Poi parleremo del tema della protezione civile, come ogni anno, della comunicazione sociale. C'è un programma di eventi che sono anche accreditati per l'aggiornamento continuo dei giornalisti di grande qualità, con giornalisti importanti che verranno a darci, diciamo, a scambiare le loro impressioni con noi. Il carcere, i vantaggi per le pene alternative, la tutela dei beni culturali, la disabilità, stiamo facendo un lavoro molto approfondito sul tema del dopo di noi insieme al coordinamento toscano e anche altri soggetti nazionali, il tema delle adozioni internazionali come bene comune. L'impatto sociale nell'ambito della riforma del terzo settore, un seminario molto bello che raccomandiamo, su cui faremo un bel focus su quello che è una questione molto stringente, soprattutto per alcune organizzazioni che vogliono capire un po' meglio quali saranno i temi di accountability che la riforma presenta. Poi parleremo appunto del volontariato internazionale come vettore di pace nel mondo. Un focus specifico sarà con un territorio, un territorio che è rinato da molti anni, grazie anche agli scambi di solidarietà, che è la Bielorussia, si è creato un network, una comunità, uno scambio fra la comunità lucchese e quella bielorussa e verranno gli ex bimbi di Chernobyl, quindi quelli che erano bambini che curavamo, che adesso invece sono classe dirigente, a raccontare come stanno adesso e qual è stato il potere anche dello scambio e della solidarietà per permettere un futuro a quei territori. Non mi resta che ringraziare tutti il parterre di patrocini, sono centinaia quindi non le dico tutto, ricordo solo che anche per quest'anno il main sponsor della manifestazione del Banco Popolare, saluto Stefano Cerrato che è qua, sarà presente anche il Presidente Frattapasini. E appunto ci sono altre realtà, fra cui il CESVOT, che sostengono la manifestazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e appunto questi sono i principali e come indirizzo, coordinamento anche culturale, la Fondazione Volontariato e Partecipazione, oltre a organizzare l'evento insieme al Centro Nazionale per il Volontariato, ha dato un input importante. C'è un programma di animazione perché il festival è un evento culturale ma anche un evento radicato nella città, un programma che è fatto di concerti, di una rassegna teatrale, ci saranno ospiti di attori di Boris e Zelig che verranno a fare degli spettacoli a ingresso gratuito e tante altre belle cose che potete trovare nel programma e nella cartella. Non mi resta che a nome di tutti noi invitarvi, veniteci a trovare, fate vivere il festival, e soprattutto anche la comunicazione del festival che, come sapete, è una nostra fissa, noi siamo dappertutto ovunque, sui social e non solo, e quindi FDV 2015 è l'asta che è il primo evento dei cantieri e facciamolo vivere e rendiamolo patrimonio comune. Grazie Anna Chiara. Grazie Giulio, andiamo veloci, Giuseppe De Stefano, il primo evento andiamo in ordine cronologico sugli eventi che via via si svolgeranno nel corso dell'anno, quindi Giuseppe De Stefano, Fiera dei beni comuni in Napoli, dal 15 al 16 maggio. Maggio. Sempre Dopolucca. Parto dalla battuta del Dopolucca per dire che una delle potenzialità di questo network era proprio anche quello di riuscire a utilizzare e a rimpallare da un evento all'altro temi, ospiti che hanno avuto particolare successo e così via. Il nostro programma è chiuso quindi a metà, speriamo di avere anche ulteriori indicazioni dai seminari che a Lucca e dagli ospiti che già Edo indicava per Lucca per poter completare il nostro programma, che è un programma che quest'anno punta sicuramente sul principio della comunità e in questo lo abbiamo declinato. La Fiera dei beni comuni nasce da un centro servizi per il volontariato ed è quindi gestito soprattutto dal volontariato. volendo approfittare anche di questo momento e approfittando anche della battuta di Edo di voler raccontare un'altra Italia, io direi, migliorerei la frase dicendo che noi tendiamo a raccontare l'Italia vera. Un'Italia che si adopera nelle comunità, che nelle comunità è presente e che cerca di di creare comunità. Noi, come evento della campania in questo network, cerchiamo di far capire quanto partecipazione e concertazione siano momenti determinanti della decisione politica e quindi anche della creazione di una comunità intorno alla decisione politica. Il volontariato in quanto cittadinanza attivo non può prescindere da questo concetto e questo sarà il momento in cui decliniamo il tema comune di quest'anno nella Fiera dei beni comuni. È ovvio che anche l'anno di Expo, noi cominciamo il 16 di maggio, non potevamo far finta che altrove, poco distante, a Milano, ci fosse l'Expo. E ospitiamo qui l'Expo dei popoli, penso che non vi debba illustrare l'iniziativa. E' un modo di vedere l'alimentazione in maniera un attimo più realistica, perché così sposo il fatto che noi raccontiamo l'Italia vera. E nell'Italia vera Napoli sa di fame e noi racconteremo come si lotta lo spreco alimentare, come si può razionalizzare la risorsa cibo. E l'Expo dei popoli servirà nella Fiera dei beni comuni a declinare proprio il cibo come risorsa a disposizione di tutti in quanto tale comune e bene. Queste sono delle opportunità rispetto al... ha portato bene ad alcuni temi l'edizione precedente. Abbiamo avuto un'ottima manifestazione con l'attività fatta con l'ordine dei giornalisti. E quest'anno abbiamo pensato di delocalizzare quelle cose che erano riuscite bene nell'esperienza precedente. Siccome erano esperienze di particolare successo, speriamo di portare successo a nuove esperienze e che dopo vi illustrerò, e questa qui l'abbiamo spostata a giugno, proprio nella logica anche di considerare l'evento una cosa che dura nel tempo. Un'esperienza molto positiva dell'edizione precedente è stata arricchire il sito della Fiera dei beni comuni continuamente con le evoluzioni dei dibattiti che c'erano stati in quella due giorni. Anche questa edizione dovrà approfittare di questo e i richiami saranno appunto i richiami sulle esperienze più positive che l'anno precedente avevano dato, come il coinvolgimento sulle tematiche della Fiera dei beni comuni e del cantieri aperte alla sala stampa, diciamo, all'ordine dei giornalisti che da noi viene ad attrezzarsi. Expo dei popoli l'ho detto, un'altra proprio perché è la Fiera dei beni comuni, noi ci intratteniamo anche sui beni comuni classici, ecco, e in questo senso abbiamo dato ospedalità quest'anno sperando che abbia lo stesso successo che l'anno scorso per esempio hanno avuto i beni archeologici di Cuma su cui stiamo puntando decisamente, è uno dei prodotti della Fiera dei beni comuni dell'anno precedente, per chi non ci segue da tanto tempo, ecco, abbiamo lanciato l'utilizzo e la fruibilità del polo archeologico di Cuma, per chi non lo conosce è una cosa che vale almeno 20 volte Pompei, attraverso l'utilizzo dei volontari e questo sta avendo un successo notevole, ci stanno delle micro imprese che stanno partendo su questa attività, c'è la disponibilità di alcune stazioni della Circonflegria e della Cumana a dare a questa cosa e così abbiamo creato un po' di lavoro. Allo stesso modo quest'anno vorremmo puntare su un'altra eccellenza che il territorio sta presentando ed è la gestione dell'acqua pubblica che nel Comune di Napoli ha avuto la meravigliosa esperienza di ABC, Acqua Bene Comune e noi come Fiera dei beni comuni non potevamo esimerci ad ospitare questo importante approfondimento. Sui nomi del nostro evento non mi scopro, ecco, diciamo che Papa Francesco ha sbagliato di qualche mese però si è trovato bene e si riproporrà. Diciamo che aspettiamo una risposta anche noi da Renzi, ma chissà, non è fondamentale nel nostro quadro. Avremo sicuramente tanti volontari, tanti cittadini attivi, ma poi attingeremo al serbatoio Lucchese per avere anche nomi importanti che possano attirare. Non ci scopriamo ancora su queste cose. Ma si riproporrà che vuol dire che viene di nuovo il Papa a Napoli? No. Noi gliel'abbiamo riproposto. Lui ha detto beh se riesco passo perché mi sono trovato bene altrimenti vi accontenterete del Cardinale. E lì io ho detto ma può camera non ci accompagni. Esatto e si è sciolto anche il sangue di San Gennaro. Sì, quello è sempre positivo. Bene, da Napoli passiamo a Genova. Gianfranco Marocchi, Consorzio Nazionale Idea in Rete, Biennale della Prossimità 5-7 giugno. Per un velo. Non sovrapposto le lezioni. In realtà questa è un'edizione 1 che segue un'edizione 0 che non avvenne perché come ricorderete ci fu un'alluvione e tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziare tutti dei bei messaggi di solidarietà che ho ricevuto praticamente da tutti qui presenti in quell'occasione. Cos'è la Biennale della Prossimità? È il tentativo di invadere per due giorni e mezzo al centro di Genova con la prossimità. Questo significa che ci saranno pochi momenti convenistici, ci sarà giusto un momento di apertura che si fa insieme al Comune ma il resto è giocato sulle spiazze. È giocato con, noi stimiamo, 120 organizzazioni che verranno a raccontare la loro esperienza di prossimità su divisi in piazza a seconda degli argomenti. Quindi ci sarà chi si occupa, per riprendere anche quanto diceva Peppe, del garantire i beni di prima necessità a tutta la popolazione, ci sarà chi si occupa di acquisti collettivi, di housing, di lavoro. Ciascuna piazza sarà dedicata a un tema e le organizzazioni si alterneranno per dieci minuti ciascuna a raccontare quello che fanno e si scambieranno tra loro delle contatti, informazioni. E poi ci sarà il momento invece della piazza vera e propria in cui si sarà sui vicoli e sulle piazze di Genova a proporre la prossimità in modo pratico per cui ci sarà il linguaggio dell'arte, del teatro, della musica, ci sarà il linguaggio del laboratorio, ci saranno artisti che faranno provare alle persone a fabbricare la propria arte, ci saranno delle letture e questo sarà il sabato 6. Sia il venerdì 5 che il sabato 6 si mangierà in comune, che significa che noi come organizzazione faremo in modo che chiunque passa un piatto di pasta al pesto ce l'avrà, ma poi chi vuole portare qualcosa e condividere con gli altri è ben accetto. L'esito poi della domenica sarà quello di riunirsi con chi ha voluto far parte di questo percorso e interrogarsi su come proseguire. Noi ci immaginiamo che dai 6 promotori iniziali, giustamente io sono il presidente di Deirete, di Deirete è uno dei 6 promotori di questa iniziativa, si passi a costruire come esito di questo evento una rete nazionale per la prossimità in cui queste esperienze, che sono tutte esperienze di protagonismo dei cittadini, abbiano un luogo permanente dove confrontarsi e quindi che se arrivi alla prossima biennale o magari se decideremo che la cosa ha avuto troppo successo diventerà annuale, con un gruppo di organizzazioni che durante tutto l'anno hanno avuto modo di scambiarsi esperienze, di costruire delle cose insieme, quindi una biennale come momento in cui si inizia a costruire. E' certamente una grande sfida per le istituzioni che mal tollerno la prossimità, il protagonismo dei cittadini, non sanno come inquadrarlo nei loro schemi burocratici, molto spesso anche per il terzo settore, che tante volte rimane un po' ingessato, esso stesso nella macchina burocratica o talvolta in questi ultimi tempi sente con molto cedevolezza certi richiami all'essere imprese. Ecco noi vogliamo invece costruire prossimità e vediamo se questa volta ci riusciamo, a giugno dicono le serie storiche è impossibile che venga un'alluvione. Grazie, velocissimo. Mariangela Giacopuzzi, responsabile comunicazione, centro servizi per il volontariato di Verona, prevista la festa del volontariato il 27 settembre. Buongiorno a tutti, grazie. La festa del volontariato quest'anno arriva alla quindicesima edizione, è un appuntamento annuale, siamo arrivati a riuscire ad ospitare oltre 80 associazioni o organizzazioni di volontariato, in realtà 80 è il numero massimo che abbiamo di posti in piazza, ma noi siccome vogliamo riuscire ad accogliere le più organizzazioni possibili cerchiamo di stivare anche altre associazioni in due pre-stand, in modo ogni tanto da riuscire ad avere qualche più presenza. La festa ospita organizzazioni che si occupano di soccorso, di beni culturali, di ambiente, di aiuto alla persona, socio-sanitario. È una bella opportunità perché molto spesso magari le persone hanno timore a contattare le associazioni, a visitare le loro sedi, a chiedere informazioni. Qui trovano le associazioni direttamente in piazza, nella più grande piazza di Verona, Piazza Bra, si terrà durante tutta la giornata della domenica del 27, dalle 10 alle 19. Potranno quindi chiedere informazioni e soprattutto conoscere tutte le opportunità che le associazioni offrono perché sono infinite. Dall'altra parte però le associazioni potranno anche riuscire a trovare dei nuovi volontari e riuscire magari anche a fare delle raccolte fondi. A proposito di questo, ogni stand, ogni associazione presenterà una propria carta di identità, diciamo, oltre al nome dell'associazione e al nome del presidente e all'iscrizione del registro regionale, viene indicato anche eventualmente l'eventuale raccolta fondi per cosa viene utilizzata, quindi con la massima trasparenza. Poi oltre alla possibilità appunto di avere contatto diretto in questa grande vetrina, vengono organizzate anche delle attività, un po' per tutte le fasce di età, in modo da riuscire ad avvicinare al termine del volontariato differenti, diciamo, target di età, dai bambini con i clown dottori, i giochi, i palloncini trucca bimbi, fino a poi ai giovani ci saranno dei balli di piazza, di flash mob, per i più anziani c'è la misurazione della glicemia, della pressione e poi altre esibizioni come ad esempio l'unità cinofila di soccorso o ad esempio la rianimazione con la possibilità anche di fare proprio delle prove direttamente. Oltre a questa iniziativa, oltre alla festa in piazza, c'è poi un evento che si propone ogni venerdì antecedente alla festa, che è un convegno. Ogni anno c'è un momento per riuscire a riflettere sui temi del volontariato. Ancora in corso di definizione però riusciamo sempre a proporre dei temi di attualità, sempre con un'attenzione alle domande che il no profit si pone in quel momento e cercando insieme di trovare delle risposte. Io ringrazio i cantieri del bene comune per questa opportunità, noi stiamo facendo il nostro ingresso oggi in questo network e grazie a tutti quanti. Grazie a Mariangela. La volta di Roma, l'appuntamento è ad ottobre, il non profit leadership forum, ce ne parla Raffaele Piccilli. Salve, allora grazie, grazie innanzitutto, grazie per averci accettati nei cantieri. Il non profit leadership forum è un evento nato l'anno scorso, quindi questa è la nostra seconda faticosissima edizione, speriamo. Ed è nata da un'idea molto semplice, quella di far incontrare i fornitori di servizi del terzo settore con le organizzazioni non profit, ma in parte anche con le pubbliche amministrazioni perché cominciano a prendere delle cose che sono nel non profit, come il fundraising eccetera. Quindi questo è l'obiettivo che ci siamo dati l'anno scorso. Quest'anno faremo una cosa simile, abbiamo deciso quale sarà il tema, sarà il cambiamento, l'innovazione e la sostenibilità nel cambiamento rispetto al terzo settore. Sarà una due giorni, una parte sarà fieristica, quindi di incontro, e un'altra parte sarà convegnistica. Io sono stato breve. Ok, grazie, grazie a tutti. Brevissima, più che breve. Quindi un pochino più di spazio Ornella Ponzoni, comunicazione istituto italiano a donazione, il 4 ottobre a Milano, l'iniziativa è il giorno del dono. Eccoci, grazie. Sì, l'appuntamento che noi lanciamo qui è quello del 4 ottobre a Milano, presso la cornice per noi speciale che sarà quella di Expo, perciò sarà una bella sfida per noi, noi saremo presso Cascina Triulza, che è proprio il padiglione della società civile che ci ospiterà il 4 ottobre. Quest'anno vorremmo fare una cosa nuova, un po' diversa, un po' fuori dalle nostre corde, da quello che siamo abituati a fare. Anche altri eventi hanno detto andiamo oltre i convegni, andiamo oltre quello che è semplicemente il condividere un qualcosa, senza avere uno scambio o senza avere poi la possibilità di interagire. Quella sfida che noi vorremmo lanciare quest'anno è quella di uscire dai temi, diciamo, classici del terzo settore, aprirci ad altri campi. Pensiamo al teatro, pensiamo al cinema, pensiamo allo sport. Andare a indagare l'idea di dono, quanto è radicata nella nostra vita quotidiana e in aspetti anche più artistici, se vogliamo, come appunto quelli che ho citato. Perciò sarà un po' una sfida, aprirci un po' a qualcosa che va oltre, perché secondo noi il dono non è solo del non profit, è della nostra vita quotidiana. In più, abbiamo appena avuto così l'ok a procedere, non so se posso spendere qualche nome, però sicuramente il MIUR sarà con noi in questa avventura, lanceremo un concorso video che rivolgiamo alle scuole, ma anche a tutti i cittadini, a tutti i privati, chiedendo raccontaci qual è la tua idea di dono, cos'è il dono per te e come dono si può intendere sia la donazione economica, forse quella più classica, la donazione di un bene, ma pensiamo anche la donazione di tempo, il volontariato stesso è un dono, il tempo è donarsi, alla fine chi fa il volontario si dona agli altri e dona il suo tempo. Perciò parleremo di dono in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme e chiederemo proprio a chiunque voglia partecipare, lo dico qui, è la prima volta che lanciamo questo concorso in pubblico, chi vorrà raccontarci la sua idea di dono lo potrà fare con un piccolo video in un modo interattivo, ci sarà una premiazione in questa occasione che coinvolgerà le scuole, ma chiunque desidera partecipare. Grazie, Salvatore Borrelli, Happening della Solidarietà, Ragusa, andiamo in Sicilia, 29-31 ottobre. Buongiorno a tutti, l'happening, noi siamo arrivati alla sedicesima edizione, quindi abbiamo un po' una storia relativamente all'happening. Il tema di quest'anno, che abbiamo definito nell'ambito anche di cantieri, è beni comuni tra democrazia e comunità, cooperazione sociale e territori connessi. Noi in questo happening avrò una formula dove tratteremo, sia da un punto di vista normativo, nonché anche nei territori che riusciremo a mettere in connessione dal quadro, dallo scenario nazionale a quello regionale, la possibilità di andare a intravedere percorsi anche di legittimazione e di utilizzi di beni comuni, di beni pubblici, demaniali, non demaniali, ma anche di beni fisici di persone, di privati, di cittadini, di quei beni che invece potrebbero essere utilizzati, come già sta accadendo, dalla cooperazione sociale, potrebbero essere utilizzati nell'ambito anche di sviluppare le comunità locali per produrre interventi di solidarietà e di inserimento lavorativo e occupazionale delle popolazioni più fragili. E intendo anche tra le popolazioni più fragili, anche le popolazioni giovanili ultimamente, perché i giovani hanno necessità di intravedere delle possibilità dove andare a fare eventualmente degli investimenti per determinare e iniziare un percorso per il loro futuro. Sarà un happening quindi non solo di convegni, ma sarà un happening che mira alla interattività e alla connessione tra i territori con le esperienze che posso che proverranno sia dallo scenario nazionale che quello regionale di riferimento dove noi operiamo, ma esperienze concrete. Tra l'altro una delle attività che stiamo predisponendo è l'attivazione di laboratori in collaborazione sia con il comune ospitante sia anche con l'ordine degli ingegneri e degli architetti per andare a creare quei laboratori con i quali i giovani provenienti dal livello nazionale, i giovani si adoperano per suggerire la città che vorrei, quindi anche un impatto relativamente al settore urbanistico del territorio, ma anche di giovani che invece hanno delle idee che vogliono mettere in vetrina prodotti di persone che non hanno la capacità, o meglio, che non hanno la possibilità di poter esporre i loro manufatti o le loro idee. Quindi il sabato poi convoglieremo con delle iniziative e queste iniziative vedranno sia il mondo dello sport, sia il mondo delle associazioni, sia il mondo della cooperazione, quella cooperazione produttiva che presso il fondo che attualmente gestisce una delle nostre cooperative esporrà la giornata, la festa dell'happening e della cooperazione del terzo settore della nostra provincia, nonché anche della regione. Quindi è un... come? Lo faremo a Ragusa, 29, 30 e 31 ottobre, augurandoci che il tempo in cui 20 ettari di terreno consenta di esporre tutti i prodotti della cooperazione, del mondo dell'associazionismo e anche delle piccole imprese, che anche quelle sono il nostro grande bene comune, soprattutto in un territorio come la Sicilia, che metteranno in vetrina quelle che sono le arte, culture e tradizioni del nostro territorio, nella qualità comunque di bene comune. Una cosa importante, si inserisce questa iniziativa e questo luogo nel bel mezzo dei beni dell'UNESCO, perché proprio questo sito, che è un sito che viene restituito fra virgolette alla comunità in quanto di un privato, consente e si trova proprio nel mezzo della città di Ragusa, di Modica e di Scicli, che ovviamente sono state riconosciute come patrimonio dell'UNESCO in tanti siti che attualmente sono in quel territorio lì. Quindi noi... è una grossa scommessa, questo richiede una grande partecipazione del territorio siciliano e nazionale. Per quanto riguarda gli ospiti che noi stiamo pensando, uno di questi che già abbiamo preso contatti dovrebbe essere la produzione di Montalbano, che ha reso importante quel territorio che già lo era, però non veniva conosciuto nella maniera importante. Anche quello noi lo definiamo un bene comune che ha portato la nostra provincia a essere riconosciuto a livello nazionale e non solo. Grazie, siete stati tutti nei tempi, abbiamo anche un po' di tempo per le domande, se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa. Intanto ringraziamo per la ricchezza, non solo perché siete stati nei tempi, ma per la ricchezza di quello che ci avete raccontato, di quello che andrete a fare, sperando che anche quest'anno la partecipazione sarà intensa come quella degli scorsi anni. Noi come famiglia cristiana è anche questa un po' la ragione del perché sono qui, abbiamo seguito e seguiremo con molta intensità ovviamente i vari incontri, in particolare il festival che si aprirà a Lucca. Se ci sono delle domande, altrimenti io lascerei la parola conclusiva e i saluti a Edo che penso debba lasciarci anche. Sì, io ho una commissione. Niente, io innanzitutto ringrazio te e Anna Chiara che sei stata con noi, per noi è una bella notizia sentire i vicini in questa avventura e per noi tutti, visto che mi sembra che siamo tra di noi, perché di giornalisti non ne vedo, forse non ce n'è uno. Diciamo che andiamo avanti, andiamo avanti, facciamo in modo che la nostra rete secondo me continui a crescere, perché è bello che la rete si tratta di altri soggetti, di altri eventi sul territorio, così che davvero questo tema un po' che di fatto abbiamo, che tu hai visto questa carrellata di esperienze, di racconti, di temi, diventi una notizia bella per il Paese. Io credo davvero, l'obiettivo un po' questo per tutti noi, fare in modo che queste piccole storie, tutte belle e importanti, dalla Sicilia fino ad arrivare a Verona, siano poi diventino storie accreditate, autorevoli per questo nostro Paese. Credo che ne abbiamo bisogno di storie un po' con altri registri, ecco, nel tentativo di raccontare storie appunto con i registri della speranza. Poi anche noi speriamo di chiamare Papa Francesco e Banchi Mondi, l'abbiamo detto l'ultima volta con Giulio e Gianluco, ho detto al prossimo obiettivo, Papa Francesco e Banchi Mondi, chissà che non ci riusciamo. Grazie comunque, scusate ma io devo scappare. Grazie, grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.